I gondolieri porteranno il feretro ai funerali di Joachim Vogel, il turista tedesco morto nell'incidente del 17 agosto. Un segno di rispetto reciproco tra la famiglia del criminologo e i Pope, che venerdì a Tubinga parteciperanno alle eseque con una delegazione di circa 20 persone. La famiglia che ci ha contattato tramite il loro avvocato aveva chiesto anche questa disponibilità da parte nostra che certamente cerchiamo di esaudire. Il presidente dell'associazione dei gondolieri Aldo Reato e quello dell'ente gondola Nicola Falcone hanno intanto incontrato i vertici ACTV per scambiarsi solidarietà dopo i violenti attacchi reciproci di alcuni esponenti delle due categorie. Il motivo vero dell'incontro nostro di oggi con il presidente Scalabrin e con l'ingegner Giovanni Seno è proprio quello di calmare gli animi e gettare le basi organiche di una collaborazione tecnica che già esisteva che da oggi è strutturata permanentemente. Il primo compito del tavolo permanente sarà discutere del nuovo regolamento per il traffico acqueo in Canal Grande, anticipato dal Comune con un documento di intenti in 26 punti, a far discutere in città soprattutto l'ipotesi di una soppressione della linea 2. Non c'è ancora nulla di certo, rassicurano dalla compagnia dei trasporti e in ogni caso i residenti saranno tutelati. La soluzione della linea 1 eventualmente insieme con la linea 2 presuppone per uno shuttle, una linea diretta Piazzale Roma-Rialto negli orari del pendolarismo che venga riservata ai possessori di carta Venezia e di abbonamento, quindi a questo punto direi per i cittadini.